Sijep 2023 continua, siamo allo stand di Sal de Riso Costa d'Amalfi e ci troviamo in compagnia del presidente dell'Accademia dei Maestri Pasticceri, Sal de Riso. Bentornato Sal. Buongiorno a tutti, finalmente siamo ritornati alla grande nella casa della pasticceria mondiale che è il Sijep di Rimini. Quest'anno vedo tantissime presenze, pensate che da 78 paesi del mondo sono qui tantissimi stranieri a visitare questa fiera meravigliosa. Possiamo dire di essere ritornati ai tempi del 2020 prima ancora dell'emergenza sanitaria. Esattamente, siamo ritornati a quel gennaio 2020 quando il Sijep verrà stracolmo di persone e questo veramente ci riempie di gioia perché vedo gli operatori del settore tutti in fermento e tutti felici. Grande entusiasmo da parte degli operatori, grande curiosità ed entusiasmo da parte dei visitatori. C'è una buona ragione anche per loro perché anche voi operatori qui presentate tantissima roba. Quali sono le novità? Da una parte dell'Accademia dei Maestri Pasticceri, dall'altra di Sal de Riso, Costa da Malfi, dall'altra di CRS. Qui ci troviamo nello stand della CRS dove possiamo ammirare gli arredi più belli, le vetrine tecnologicamente più belle che riescono a conservare i nostri dolci in maniera efficiente, in maniera straordinaria. Poi sappiamo bene che la Fiera di Rimini è una meta per conoscere i nuovi ingredienti, per fare conoscenza delle tecnologie intelligenti che aiutano a tutti noi nei nostri laboratori. Quindi abbiamo macchinari di tutti i tipi per grandi e piccoli laboratori. Naturalmente tante dimostrazioni fatte dai nostri maestri che sono in giro negli stand per far vedere come si utilizzano al meglio le nostre materie prime. Poi chiaramente l'Accademia Maestri Pasticceri Italiani quest'anno ha due stand importantissimi. Uno proprio qui allo stand della CRS dedicato ai giovani, Ampi Giovani, che è un nuovo progetto che abbiamo iniziato un anno fa dedicato ai giovani under 30 perché pensate sono entrati a far parte del nostro gruppo 22 ragazzi di tutta Italia che saranno il futuro dell'Accademia. E poi abbiamo un grande stand Ampi al padiglione D5 dove tutti gli accademici sono presenti, dove a ripetizione facciamo delle dimostrazioni su tantissimi prodotti. Io ne ho fatte una sul divitato, sul panettone milanese e possiamo fare anche delle degustazioni se volete. Insomma siamo lì per farvi assaggiare tutte le nostre specialità. Abbiamo tanti progetti ovviamente, quindi Ampi Giovani, Ampi Levitati, abbiamo anche un progetto dedicato al gelato che più avanti metteremo in piedi. Quindi tante sorprese, tante novità per portare in alto il nome della pasticceria italiana. Non hai avuto un attimo di esitazione nell'andarlo a raccontare ma diciamo anche che siamo al quarto giorno e non hai avuto un attimo per venire qui al tuo stand dove si esibiscono dei dolci che sono delle piccole opere d'arte. Ho la fortuna di avere i miei collaboratori che mi assistono, sono qui due ragazzi presenti alla mia vetrina, al mio stand. Io sono in giro per fare delle visite ai partner dell'Accademia, per fare dimostrazioni. Più tardi sarò da Hausbrand, sono stato da Molino Colombo, da altri marchi illustri di materie prime, da Cesarin per la frutta candita. Quindi sono in giro per fare dimostrazioni ma poi spesso vengo qua per salutare i clienti, gli amici che vengono a trovarci e le tante persone presenti. Allora Sal concludiamo chiedendoti diciamo una primizia, abbiamo parlato di quelli che sono i progetti in corso qui nel corso di CIGEP 2023. Io vorrei però chiederti quello che è il tuo progetto pilota per il 2023. Sì allora come sapete Salderiso è a Minoni, in costiera Amalfitana, la sede principale. La produzione è una fatta sempre in costiera a Tramonti a 300 metri dal mare, un laboratorio meraviglioso in mezzo alle campagne di Tramonti. Poi abbiamo un punto vendita a Roma in via di Santa Costanza, uno in Galleria Milano e a Roma Fiumicino in aeroporto. Ma per la prossima primavera c'è un nuovo progetto che si aprirà sempre a minori, si chiamerà Salderiso Gourmet, sarà dedicato esclusivamente al food, al salato. Quindi food, pizza, grill e musica, tutto insieme in un solo format a fianco alla mia pasticceria. E noi ne daremo informazione diciamo quasi in anteprima, prima ancora che venga aperto il punto vendita per invitare tutti voi a poter visionare quelle che sono le chicche di questo punto vendita che è un punto pilota. Beh è un punto pilota sicuramente dove vogliamo far assaggiare le eccellenze salate e anche dolci particolari gourmet al piatto. Diciamo che c'entra sempre anche il limone. Assolutamente, il limone c'entra sempre, siamo in costiera, siamo circondati da questi meravigliosi agrumi e quindi non possono mancare. Sal, allora io ti lascio al pubblico che nel frattempo ha circondato lo stand perché desidera fare un selfie con te e parlare, complimentarsi con te per la tua straordinaria bravura. Grazie, grazie per la collaborazione. Grazie, un caro saluto a tutti i nostri telescoltatori.